Questa sera ci sarà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atalanta e per l'Atalanta questa possiamo dire che è la partita della vita, un'occasione speciale per questa squadra e questa senza dubbio è la partita più importante della sua storia finora. E secondo te come finirà questa partita? L'Atalanta riuscirà a sconfiggere il Real Madrid oppure no? Scrivi la tua previsione nei commenti, ti invito ad iscriverti anche al mio canale YouTube per non perderti i prossimi video in uscita. E non ci vediamo più presto con un nuovo contenuto. Ciao!